Perché ormai è entrato nella tradizione del podismo ternano appunto e domenica prossima il trofeo città di Terni dal polo alla luna offrirà ai tanti appassionati provenienti anche da fuori regione di misurarsi su uno dei tre percorsi previsti dalla podistica Carsule che ha organizzato l'evento. Ci sarà anche la parte non competitiva di mini percorsi per bambini e a caratterizzare questa sedicesima edizione particolare. Ancora un appuntamento in città con il podismo questa volta per la sedicesima edizione del trofeo città di Terni dal polo alla luna. L'appuntamento è per domenica prossima con la manifestazione organizzata dal gruppo sportivo podistica Carsule e patrocinata dal comune di Terni, la seconda circoscrizione nord provincia di Terni coinvolgerà tanti sportivi amanti della corsa. La gara è valida come terza prova dell'Umbria Tour 2011, il circuito di gare promosso dal Crupe ossia il comitato di società che aderiscono agli enti di promozione sportiva e quale ottava prova del Grand Prix Umbro 2011 che comprende 22 gare tra le più importanti della regione. Il raduno è fissato per le 8 al centro commerciale Il Polo di Borgorivo per le operazioni preliminari. Sono attesi circa 400 atleti provenienti da tutta la regione ma anche dalle regioni limitrofe, in particolare dal Lazio. I podisti potranno scegliere tra tre percorsi di 1,6 km, 6,3 km e di 11 km non competitivi e 11 km competitivi. La partenza verrà data per tutti alle 9.45 dal centro commerciale e dopo aver attraversato il centro abitato di Borgorivo entreranno in un percorso completamente chiuso al traffico da ripetere due volte per un totale di 11 km che porterà i podisti a toccare anche la zona di Colle Luna per arrivare poi all'interno del Parco Secci. Il percorso è abbastanza nervoso con saliscendi che metteranno a dura prova i muscoli degli atleti ma i meno allenati potranno optare per un solo giro di 6,3 km partecipando alla non competitiva. Sono previsti anche i mini percorsi per i bambini che effettueranno circa 300 metri all'interno del Parco Secci. La partenza è prevista per le 9. Per l'occasione domenica mattina verrà ripristinato fino al termine della gara il doppio senso di circolazione all'interno di Borgorivo in quanto sarà chiuso al traffico via del Centenario da Piazzale Marinai d'Italia fino al semaforo all'altezza dell'impianto di calcio del Campitello. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon prossimamente di serata.